Ciao a tutti e benvenuti! È iniziata la produzione di Guardians of the Galaxy. Vi dico tutto dopo il video. ...196. Wow! Bene, allora buona degustazione. Grazie. D'accordo, bisogna pur morire un giorno. Oh, pie! L'adoro, l'adoro! L'agiotto ha un gusto un po' particolare, però. No, è fatto apposta, non ha gusto. Esatto. In ogni caso, è magnifica la vostra casa. Volevamo almeno quattro stanze. È il minimo, no? Per i bambini. Sì, questo l'avevo capito. Però per i bambini abbiamo tempo. Naturalmente ci stiamo pensando. Una vita senza figli è un po' triste, no? L'agiotto è più leggero dell'aria, per cui risale. Quindi si rutta. E se fosse più pesante, invece... Beh... Scorregge. Pierre! Scusatelo. È anche per questo che volevamo il giardino. E potremmo avere anche un cane. E poi Marie potrà piantare i turipani, perché io adoro i turipani. Pensate, tutto il giardino pieno di... Turn around Every now and then... Marvel Studios ha ufficialmente annunciato l'inizio della produzione di Guardians of the Galaxy. Il film sarà diretto da James Gunn e sceneggiato insieme a Nicole Perlman. Nel ricchissimo cast ci saranno Chris Pratt che interpreterà Peter Quill o Star-Lord, Zoe Saldana che sarà Gamora, Dave Batista che vestirà i panni di Drax the Destroyer, il famoso benizio del toro The Collector e infine la grandiosa Glenn Close che interpreterà Nova Prime. Le riprese sono iniziate in questi giorni proprio, in Inghilterra negli Shepperton Studios. Guardians of the Galaxy sarà nelle sale cinematografiche dal 1 agosto del 2014, giorno dell'uscita americana della pellicola. E per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao e alla prossima!